Luke 4316 Allora lì dicevi vabbè Ti davo del capobastone stavi Ti dicevo che Get Style di Just Marza Era come un montaggio Di Verax Lì allora potevo capire l'insulta Non parlare di nucleo solo perché non li sei fan Ah non parlare di nome Tu lo sai che in un video di Verax io lo insultavo a morte A fine video che lui aveva tenuto tutta la mia clip Vero? Ah verax Per favore Chicken burger menù Grazie Me ci metti coca cola e 6 chicken mcnuggets Voglio la vertigo Che patatine Attenzione Vado Combattenti di terra Di mare e dell'aria C'è proprio Inveci Grazie a tutti